Ile? Ciao! Silvia? Katia? Facciamo la ripresa quella libera di riguardo. Cos'è? Una foto? Sorridi? Si stava ricattando eh. Sorridi? Caraglio? Si. Che stai facendo? Niente! E' stato un secondo video. Katia ma quello è famosa del regalo. Cos'è? Ma quanto è speso? Ma sei fuori? Quanto? 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 Katia sorridi? Katia sorridi? 190! 90! Ma tu che cosa hai speso? La borsa di Milano. Milano. La borsa di Milano. Ciao! Ciao! E' bellissima sta cosa, la voglio anch'io. E' bellissima, la voglio anch'io. Mi stai zoomando in bocca. Ehi! 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 Silvia! Guarda come fa. Sorridi! Ehi! La bocca, il naso, gli occhi. No, ma... Non si capisce bene. Sembra tipo un' ecografia. Adesso diventa vecchio. Cioè, ha trent'anni ha già capelli tutti bianchi. Ma il prof che cazzo stendi. Ma il prof che cazzo stendi. Hai sorridi. Ehi! Guarda che la potete girare. No, la possiamo girare. Sei sicura? Magari si rompe. Si, si può girare. Altra parte. Mesi, dov'è il volantino dell'hotel? Fighissimo! Gira di qua. Gira di qua. Così. Dov'è il volantino dell'hotel? C'ero io. Dammi. Posso tenerlo un attimo? No. Vieni. Guarda, Mesi ti faccio vedere le nostre camere quanto sono belle. Allora, questa è il sorriso. Hai mai visto queste camere? Guardate la halla. La nostra halla è la roccia. Queste cose più le distruttate più. Che le hai portate in l'alazzo nero? L'amo qua. Strisce. Dove cazzo hai visto? Ci troviamo dei cessi. Ai, che pare, a fare con Gregi. Gregi, sorridi? Gregi! Sorridi. Guarda, no, no. La nostra guarda. Michele dove l'hai presa sta cosa? Voglio anch'io. C'erano tutti i negozi di elettronica. Ma la lanciola. Ma mi vuoi vedere come... Quella è presa, cioè. Che figata non è? Inquadra la bocca della Cristina che fa... Vediamo tutti i bei denti. E' una figata unica. E' un palazzo. C'era la camera bellissima. Quella è quella. Regali per Motherfatter, sì. Guarda. Qual era veramente da denunciare? Cosa fai? Scusami. Guarda che hai schiacciato qualcosa. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Non lo so. Ferma, ferma! Devi fare i movie. Movie. Yes. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Hai sbagliato persone. No. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ma si chiedeva una lista. E' sfocato. Ma se si muove per provare di stare fermo. Sì. Andiamo. Arrieta. Guarda, guarda, qui, guarda, qui, guarda, qui. Noi siamo qua dalle due. Riprendi l'orto. Noi siamo qui. Vai, Ricky, sorridi. No, non fai me, non fai me. Non fai me. Aspetta. Non fai me. Dai i calci qui a Michele. State fermi che faccio la foto. State fermi che faccio la foto. Anch'io. Io sono stati su Facebook. Corri, non sta morendo, magari. Merda. Parca. Michi, guardami. Sta morendo, dice, aia. Io ne ho fatte tre. Tutti su Facebook. No, carri. Non posso scendere.